Svanol, Photoshop qui in Roma, finalmente si è avvenzati questa fiera straordinaria, con tanta arte, tante modelle, tante foto, tanto fotografi, tanti obbisti, anche professionalisti alla grande. Abbiamo fatto ottime riprese, abbiamo scelto ottimo modello, ottimi contributi scenici, anzi siamo stati molto soddisfatti della collaborazione e dell'impatto di Svanol che ci hanno chiesto che cos'era, che cos'è Svanol, perché Svanol, perché usare questa statuetta, ma Svanol è tutto, è il futuro, è il presente, è l'andare. Qualcuno ha capito che era un voto, che era una statuetta votiva, che portava fortuna ed altri ancora, quindi siamo presi da questa atmosfera sempre molto forte, e noi in questa energia che esplode... HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA